È l'ambiente formidabile, sensazionale. De formazioni, l'Italia gioca con Oriali, Stico e incappo. Quella è una partita segnata dal destino. È una partita che diventa un romanzo. Non sono mai riuscito a vedere quella partita. Prima o poi la rivedrò tutta. Qual è la partita? Ha fatto una storia. Barcelona si è convertito quasi quasi in un mini Rio de Janeiro. Ci veniva detto che molti giornalisti scommettevano sulla sconfitta dell'Italia. Per rispettare il protocollo l'abito attende le 17.15 esatte. Sono pronto ad arbitrare la Coppa del mondo. Mi sono posizionato in un posto alto. Bergomi, anticipato, la palla rimbalza, c'è il tiro. Rossi, go! Rossi! Rossi! Fu la prima volta che sembrò quasi che diventassimo un po'. Quella squadra voleva vincere e aveva voglia di vincere. Il calcio non si ferma. È così che funziona. Quella partita mi ha dato quella mentalità di poter ottenere e arrivare obiettivi importanti. Però è passato, è passato, sì. Almeno dici ho fatto bene il mio lavoro, eccolo. Scusate, voi non potete capire.